Può testimoniare che non ho mai avuto l'atteggiamento di chi si presentava con il cappello in mano Bravo, quindi mai col cappello in mano è andato Ricordi, ovunque tu lasci il cappello è casa tua Certo, però lui mai con il cappello in mano Non porto il cappello Ah vabbè, certo, allora è facile, scusa Se lui non porta il cappello di solito come fa ad andare col cappello in mano? No, ma non prende il cappello, sai poi anche c'è caldo Ma se lui di solito non porta il cappello, non è che si può chiedere se va col cappello in mano o meno No, non vediamo lui il cappello, non ce l'ha Ma basta parlare di cappello No, ma lui non lo porta il cappello Io non voglio più parlare Ma lui non si presenta con il cappello in mano Questo per dirle che non è che mi presento a Bruxelles e invece metto il cappello Il cappello Perché stiamo ancora parlando di cappello? No, il cappello ce l'ha o non ce l'ha? Non ce l'ha o non ce l'ha Ma ha detto che mi sei licenti premier No, ma gli altri premier Premier, sì, sì, scusate cosa testimoniano Può testimoniare che non ho mai avuto l'atteggiamento di chi